Un aspetto interessante delle cartucce di etichette Lights Icon è la facilità con cui possono essere riciclate. Sono fatti in polpa di carta e cartone, mentre la guida pieghevole è in plastica. Per riciclare la cartuccia, bisogna separare la plastica dal cartone. Basta tagliare la linguetta che collega i due pezzi su entrambi i lati. È sufficiente separare la plastica dal cartone e gettare i due materiali nella raccolta differenziata.